La fine dell'anno è sempre un'occasione per i consuntivi e per pensare alle cose più belle e importanti per l'anno nuovo ed è per me l'occasione per dirvi che sono davvero orgoglioso del nostro consuntivo 2015. Ovviamente nessuno può dire che viviamo nel paradiso terrestre o nell'Eden, ma tutti quelli che sono in buona fede devono riconoscere che noi siamo stati un paese in cui la sicurezza ha tenuto. E' attenuto in un momento molto difficile per tutto il resto del mondo, basti pensare ai tragici fatti di Parigi, al doppio tragico fatto di Parigi, quello di gennaio e quello di novembre, per sapere e rendersi conto di come nel nostro continente, a pochi chilometri da casa nostra, si sia consumato in Europa un attacco terribile alla nostra libertà. Il nostro è stato un paese che ha retto, ha retto nella lotta al terrorismo, soprattutto per un'attività di prevenzione veramente straordinaria che le forze dell'ordine hanno saputo fare, che voi avete saputo fare. Vorrei anche sottolineare con grande forza il lavoro dei nostri vigili del fuoco, non solo le forze dell'ordine ma anche il soccorso pubblico, i nostri vigili del fuoco. Oltre 700.000 interventi in quest'anno 2015 per una media di più di 2.000 interventi al giorno è il risultato straordinario di un corpo che riesce a essere sempre lì, in trincea e in prima linea. Un pensiero lo vorrei dedicare ed è un pensiero conclusivo alle vittime del dovere. Qualcuno non c'è più perché si è sacrificato servendo la propria divisa e servendo la propria divisa significa avere servito la propria patria, la nostra patria e la nostra Italia.